Dall'assemblea dell'Avis i nuovi dati sulla IDS, in aumento il contagio sessuale anche tra coniugati con un rapporto stabile. In settimana Manildo e Tonon vanno a Roma col prefetto Lega, obiettivo portare una commissione profughi anche nella marca. Un flash mob per il sì, un democratico per il no al referendum sulle trivelle, tutti dicono è semi sconosciuto ai cittadini. Comune di Treviso verso il no al patrocinio per il gay pride, ma il vice sindaco puntualizza, decideremo la prossima settimana. Le parole di fuoco dell'onorevole Rubinato sulla situazione del fili Veneto, contro la depressione degli elettori serve un nuovo segretario. 24 anni algerino, ubriaco, affronta pattuglia dei carabinieri chiamata al pub di Riese, lui finisce in manetti, militi all'ospedale. A Pasqua rompe l'uovo con i dipoti, dentro trova una bomba a mano, la denuncia a Rete Veneta, d'accordo il giocattolo, ma di questi tempi? Sei famiglie su dieci nascondono per vergogna il figlio autistico, la denuncia dell'associazione che oggi non festeggia la giornata. E buonasera da Treviso, incominciamo con l'assemblea dell'Avis oggi in provincia, dove sono stati forniti i dati sulle donazioni e la qualità del sangue. Le donazioni sono in crescita, ma sono in crescita anche i casi di sangue contaminato, e tra questi la contaminazione è quella per l'AIDS, la maggiore. Allora sentiamo i dati, ma soprattutto perché c'è questa maggiore contaminazione? Pare quasi esclusivamente di natura sessuale. Torna l'incubo AIDS nella marca. A indicarlo i dati dell'Avis provinciale, che registra tra le donazioni inutilizzabili, l'aumento di quelle con il sangue infetto da questo virus. I donatori che sono stati bloccati perché si è rappresentata una positività serologica, è in leggero aumento soltanto per l'AIDS, mentre per le altre malattie, epatite B, epatite C, è in leggero calo. Ma quello che deve far riflettere è il veicolo di infezione. Se un tempo poteva essere il contatto diretto del sangue tramite uso di stupefacenti, oggi l'aumento dei casi accertati è legato ai rapporti sessuali. Negli anni, da una prevalente infezione dovuta all'uso di siringhe infette, quindi a comportamenti soprattutto da parte di persone tossicodipendenti, siamo passati invece a una prevalenza invece di rischio soprattutto per i rapporti sessuali non protetti. Una libertà sessuale legata probabilmente ai recenti successi che hanno reso meno temibile l'AIDS, oltre ad un aumento di rapporti promiscui anche tra persone con situazioni familiari stabili. Tradimenti e occasioni di una notte, fino a qualche tempo fare spinti per timore di possibili contagi, ora tornati prepotentemente alla ribalta, con un problema in più, quella della trasmissione anche al coniuge o al convivente, oltre, nel caso dei donatori, anche al ricevente. Da qui, almeno da parte dell'AIDS, l'iniziativa è di cambiare il questionario, che ogni avvisino compila prima del prelievo. Con il nuovo questionario andiamo a fare delle domande, un'intervista molto più accurata e molto più specifica per quel che riguarda i fattori di rischio per la trasmissione di malattie infettive per via sessuale. In questi casi, certi segreti non si possono certo tenere. E adesso invece andiamo a vedere la situazione dei profughi nella marca. Oggi giornata non di lavoro all'ex Zanusso, però ci sono delle novità per quanto riguarda il futuro di queste persone nel nostro territorio. Cantiere fermo oggi all'ex Zanusso di Piavondi o Derzo. Dopo i container di giovedì e i decespugliatori di ieri, ora si attendono gli allacciamenti di luce e acqua per poter procedere agli ultimi allestimenti e a seguire all'arrivo dei primi 50 profughi all'interno della caserma di smessa. Una situazione temporanea fa sapere la prefettura, nell'attesa della ristrutturazione del complesso che, stando alle condizioni generali, non sarà così breve. Intanto cresce la rabbia da parte dei residenti e della frazione e in genere dei cittadini di Oderzo per quello che hanno definito un colpo dello Stato. Situazione che si ripeterà con tutta probabilità anche a Vittorio Veneto, nell'aviosuperficie di smessa di San Giacomo di Veglia. Ad oggi quindi la previsione è di tre centri di accoglienza, Treviso, Vittorio e Oderzo, tutti guidati da amministrazioni di centro-sinistra, con i sindaci che non ci stanno a rispondere per tutti gli altri comuni della marca. Così oggi il primo cittadino di Treviso ha alzato il telefono e chiesto un appuntamento al Viminale. Abbiamo contattato Roma insieme al sindaco di Vittorio, Roberto Tonon, per chiedere delle certezze. L'accoglienza ci deve essere, ma con delle regole. Ci deve essere un'accoglienza più diffusa nel territorio, non possono essere soltanto due o tre comuni che accolgono in modo sostanzioso. Perché tutti sono disposti ad accogliere i profughi, ma solo quelli veri. Da qui la richiesta di ottenere una commissione che determina lo status dei migranti anche nella marca. La nostra richiesta va proprio nel fatto di avere tempi più celeri per capire chi ha il diritto di essere accolto. È importante che le commissioni che lavorano vengano aumentate di numero o lavorino in tempi più veloci. Possiamo pensare a una commissione anche a Treviso? Beh, potrebbe essere una strada. So che anche con il prefetto ne abbiamo parlato. Andremo insieme al Ministero dell'Interno per portare avanti anche questa tesi. E sul tema del referendum delle Trivelle cosa ne sapete? Sapete, dalle telefonate a Sveglia Veneti pare molto poco, i cittadini sono poco informati. Allora nel prossimo servizio andiamo a sentire le motivazioni del sì e del no con un flash mob che è accaduto oggi in città. Una parte del PD provinciale o comunque chi lo rappresenta insieme alla segreteria ha favore delle Trivelle e perché va detto no ai demagoghi antitrivelle. Così Nicolo Rocco. Io sono più orientato per il no, che è la posizione anche di Prodi. L'unica questione che vorrei approfondire è quella delle concessioni sine die, che mi sembra l'unica significativa. Per il resto mi sembra che per ora il dibattito sia stato molto orientato a livello ideologico e poco in realtà su quello che è il quesito referendario. Con la spiegazione del perché va detto no, la riflessione su come il quesito referendario e i suoi eventuali esiti meritino maggiori approfondimenti. Ritengo tuttavia che non si stia veramente parlando di nuove Trivelle perché non è così e ritengo che sia un referendum per ora caricato solo ideologicamente. La posizione invece dell'assemblea provinciale è quella che il partito informi, faremo delle iniziative per informare, poi ciascuno può prendere una decisione, però un partito è luogo di democrazia e democrazia significa partecipazione, significa informazione, quindi il PD trevigiano invita soprattutto i cittadini ad informarsi e ad essere parte comunque di un processo. Referendum sulle Trivelle con i comitati del fronte del Sì all'insegna della confusione e contestazione. Alle 11.30 in Pescheria il primo flash mob di Terra Nostra, comitato di centrodestra con lo slogan che verrà poi contestato dal comitato di centrosinistra. Renzi, Renzi, Trivella è tua sorella! Slogan sessista che eravamo d'accordo di eliminare, se continuate a cantarlo vi cancelliamo dal comitato. Così Marina Salvato, portavoce del comitato trevigiano per il referendum. Renzi, Renzi, al mare non ci pensi! L'importante è dare il segnale che la popolazione preferisce altri tipi di energia e che comunque per noi nel Veneto l'industria del turismo è più importante di qualsiasi altra cosa. Perché altre piattaforme sono nell'oceano, l'oceano non è il nostro mare. Se si vede come sono distribuite le correnti nel nostro mare, con chiunque Trivelli e chiunque faccia danni, tutto il mare ne viene, tutte le spiagge ne vengono assolutamente toccate. E dalla pescheria e dal referendum ci spostiamo un po' più in su, andiamo verso Cassugana e andiamo a parlare del Gay Pride che dovrebbe avere il suo culmine nel giugno di quest'anno. Pare che però Cassugana non sia tanto orientata a supportare l'iniziativa. E cosa quasi certa, il sindaco Manildo, pressato dal fronte del no in maggioranza, non sembra più propenso a patrocinare il Gay Pride con la manifestazione finale del prossimo 18 giugno. Da fonti interne a Cassugana, fortemente contrari, gli assessori Paolo Camolei e Liana Manfio, i consiglieri Giancarlo Zuliani, Roberto Pizzolato e Ivan Celotti, eppure il vice sindaco Roberto Grigoletto. Nessun patrocinio è mai scontato, perché ricordo che il patrocinio viene dato per delle iniziative che riguardano, o degli eventi che riguardano tutta la città. Per cui, prima di dare un patrocinio, si soppesano molto tutti quanti gli aspetti e poi si decide di concederlo o meno. Quindi non può essere assolutamente scontato. Dice il sindaco che si affretta a puntualizzare entro la prossima settimana la decisione ufficiale e formale, dando pure un chiaro, sebbene in apparenza criptico, messaggio direttamente al sindaco, Giovanni Manildo. Il sindaco è una persona molto intelligente, molto saggia e sa valutare che cosa è opportuno fare. Quindi penso che tutti quanti debbano avere fiducia nella sua capacità di discernimento e di decisione. Insomma, i giochi ad oggi sembrano a propendere per il no. Dieniego dovuto al muro di ferro incontrato con il comitato organizzatore del Pride che proprio non vuole assolutamente modificare il percorso del corteo che prevede il passaggio sotto le finestre del Vescovado in Piazza Duomo. Vice sindaco Grigoletto che avremo lunedì mattina a Sveglia Veneti dalle 8 e 10 e quindi chiederemo a lui altre delucidazioni non solo per quanto riguarda il Gay Pride ma magari anche per altri temi della città. Anzi, aspettiamo le vostre telefonate come sempre. Invece rimaniamo a parlare di politica perché ieri sera ci sono stati due incontri per quanto riguarda il Partito Democratico. La riunione del regionale e a Conegliano quella del provinciale. Sentiamo il commento di uno degli esponenti del Partito Democratico più in vista ovvero l'onorevole Simonetta Rubinato. Bisogna andare a un congresso bisogna che il Partito Democratico per riacconquistare un po' di vitalità e di credibilità nei nostri territori si accinga democraticamente a fare quello che prevede uno statuto quando un segretario è dimensionale cioè fare un congresso. Questa è la linea del Partito Democratico della Marca che si è riunito ieri sera a Conegliano. Una linea condivisa sia dopo quanto accaduto in regione con la sconfitta di Alessandro Moretti ma anche in vista delle prossime amministrative dove non solo il caso Profughi e altre vicende di territorio ma soprattutto le divisioni interne mettono in dubbio conferme e conquiste. Diversa invece la linea del PD Veneto che sempre ieri sera a Padova ha avuto la direzione regionale. Si è nuovamente celebrato un altro momento della telenovela del PD e cioè il fatto che un piccolo gruppo di persone di nomenclatura del partito si ritroverà per provare a vedere se si trova la quadra intorno a un nome che faccia da ponte, da traghettatore fino a quando non arriveremo al congresso quindi se c'è questo nome si dice che c'è la possibilità di non frantumare il Partito Democratico del Veneto. A me pare che guardando ai territori, ai circoli e ai nostri elettori lo sconforto sia totale e che quindi l'unico modo invece per ripartire sia quello non di chiudersi in una stanza in pochi a decidere il futuro del PD del Veneto ma dare la parola al popolo del Partito Democratico. E a proposito di Partito Democratico ieri vi abbiamo fatto vedere il servizio con il consigliere Antonella Tocchetto che passava nella lista Gentilini evidentemente un pesce d'aprile che sembra però abbia funzionato tanto è vero che sono in tanti che hanno telefonato il consigliere dicendo ma cosa stai facendo? Sono rimasta stupita anch'io che alcuni giornalisti e anche amici che mi conoscono da tanto tempo avessero creduto alla cosiddetta bufala del primo aprile ben organizzata da Rete Veneta che io fossi passata con la lista Gentilini io sono molto lontano dalla lista Gentilini e dallo stesso Gentilini ci siamo sempre diciamo così contrapposti e anche nell'ultimo consiglio comunale lo scontro verbale tra me e lui si è concluso come al solito io che le dico non condivido nulla caro Gentilini e lui che mi dice lei comunista mi ha molto deluso come al solito quindi che ancora ci sia gente che crede che io possa fare un salto di quel genere dire la verità non ci crederei nemmeno io però mi ha fatto molto ridere perché tra messaggi, Whatsapp e persone che anche oggi al mercato mi fermavano ho comunque capito che a volte le cose le notizie giornalistiche se non viste nel suo complesso perché qua il titolo poteva far pensare una cosa ma il servizio era tutt'altro possono veramente ingenerare dei grandi equivoci che insomma dopo per fortuna possono essere chiariti però la cosa mi ha molto divertito brava Rete Veneta e grazie grazie Anna Maria Parisi che ha pensato questo scherzo del primo aprile rimaniamo parlando del PD perché i giovani del PD trevigiano uniti con il circolo di Padova per raccogliere materiali vivere in particolare scarpe da portare i profughi ai domeni il campo che si trova lungo il fronte greco macedole dove sono stati accolti quasi 15.000 richiedenti asilo oggi la presentazione proprio nel corso della giornata proprio di oggi nella sede cittadina del PD dopo i ragazzi del collettivo ZTL già partiti prima di Pasqua verso l'accampamento alle porte d'Europa e rientrati nelle scorse ore a fine mese invece la partenza dei giovani democratici trevigiani che chiedono alla cittadinanza sostegno portando nella sede del partito biancheria, scarpe e appunto visti i chilometri che percorrono a piedi prodotti per igiene personale pannolini e cibo per bambini insieme a torce e spazzolini e adesso invece passiamo alla cronaca con una singolare situazione accaduta ieri sera a Ballà di Riese verso le 23 è scoppiata una rissa nei pressi di un pub inevitabile la telefonata ai carabinieri che si sono precipitati sul posto all'arrivo due dei tre partecipanti alla rissa che era scoppiata sono scappati un terzo che è un 24enne di Montebelluna di origini algerine è stato fermato dai militari dell'arma in realtà è nata una collutazione con il l'algerino arrestato e i tre carabinieri mandati al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna oggi c'è stata il processo per direttissima e l'algerino è stato condannato e rimesso in libertà altra notizia di cronaca stava trascorrendo il fine settimana sulle piste da scia dal pago quando per una brutta caduta a 10 metri d'altezza ha pure rischiato la vita protagonista della vicenda una 34enne residente a Mansuet l'incidente è avvenuto poco dopo le 13 a col nudo a 2200 metri d'altitudine una squadra del soccorso alpino dell'alpago è stata allertata per la scia alpinista trevigiana con i soccorsi intervenuti con l'ambulanza e un vericello di oltre 10 metri le condizioni della trevigiana secondo i medici non sarebbero gravi e adesso invece vi facciamo le foto appena arrivate che ci hanno appena mandato di Giancarlo Gentilini a Sant'Angelo che ha incontrato Graziano Stacchio un incontro importante perché insieme vogliamo portare avanti quella che è la battaglia per la legittima difesa sapete che in diversi comuni della marca si stanno raccogliendo le firme per riuscire ad avere una proposta di legge in tal senso quindi oggi l'incontro la comunanza di idee per quanto riguarda la sicurezza nel territorio e soprattutto le grandi strette di mano come vedete a Sant'Angelo e adesso invece cambiamo argomento oggi a Udine c'è stata una grande manifestazione per quanto riguarda il latte sapete tantissimi produttori di latte sono in difficoltà perché il costo del latte è superiore il costo della produzione è superiore rispetto a quello della vendita questo perché arriva molto latte dall'estero a condizioni più basse in termini economici ma non garantito e allora a questo punto siamo andati a sentire i nostri produttori trevigiani qual è la situazione e quali le prospettive si infiamma la protesta degli allevatori della marca oggi a Udine a protestare ad un anno dalla fine delle quote latte un anniversario amaro considerando l'attuale valutazione del latte trevigiano e dei formaggi relativi perché trovare i formaggi esteri che stanno facendo il dumping ai nostri a prezzi che sono veramente impossibili vuol dire proprio che ci stanno facendo una guerra commerciale non solamente sui formaggi perché è impossibile pensare a formaggi che valgono 1,80 a latte che arriva a 21 centesimi loro non pagano i loro produttori a 21 centesimi stanno veramente facendo un'azione di forza un dumping commerciale per farci chiudere le aziende e tutto questo senza che dall'Europa arrivi alcun sostegno questo è quello che i nostri europarlamentari non hanno capito perché ci hanno fatto dei danni incredibili in passato degli incompetenti messi là a creare danni alle nostre economie agricole tutto quello che loro hanno fatto era prevedibile che avrebbero portato il disastro che hanno portato noi in qualche maniera la difesa la possiamo fare solamente in un sistema dando la sicurezza al consumatore che il nostro prodotto è il migliore come hanno sempre saputo come sempre è successo una qualità che viene garantita dall'etichettatura obbligatoria noi lotteremo fino in fondo per l'etichettatura per continuare a produrre la nostra qualità sperando che anche i trasformatori capiscono che non possiamo produrre il latte ai prezzi che lo producono gli altri se diamo queste garanzie se diamo queste qualità anche loro devono essere consapevoli che se lavorano nel territorio veneto solamente il fatto di avere il capannone deve comportare una presa di responsabilità verso il territorio che rappresentano una presa di responsabilità che significa anche autonomia autonomia è un altro dei temi il referendum che dovrebbe arrivare verso ottobre che è di consueto è un tema consueto a Sveglia Veneti oggi con l'onorevole del Movimento 5 Stelle d'Inca sentiamo cosa ha detto io dico anche al Presidente Zaia se volessi riunirci attorno a un tavolo non c'è problema veniamo tutti siamo in settanta in dettaglio parlamentari se volete un tavolo uno è proprio grande va bene ci si incontra davanti a un tavolo si parla dovete parlare di autonomia io qua ho un plico che si parla di autonomia Veneto tutti insieme per l'autonomia del Veneto anche dal Movimento 5 Stelle c'è l'appoggio al percorso iniziato dal Presidente Zaia con la lettera al Premier Renzi e che proseguirà con tutta certezza con il referendum consuntivo essenziale anche per Federico d'Inca che ci sia l'adesione totale dei Veneti alla consultazione senza distinzione di colore politico non a caso dai 5 Stelle l'apprezzamento per quanto fatto dall'onorevole del Partito Democratico Simonetta Rubinato in tema di autonomia vi è l'emendamento della Simonetta Rubinato che tra l'altro è l'unica del Partito Democratico che ha un minimo di visione sulla parte delle autonomie locali lo dico a fuori dai denti perché mi dicono ma certe volte voi dite su a tutti no 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 io con certe persone discuto e parlo insieme anche se serve va bene per il bene del Veneto e si sta battendo si si io non mi tiro dietro su nulla e quindi lei ha fatto un piccolo emendamento positivo anche questo nella quale devi dire sai se una regione ti domanda qualcosa governo tu governo devi rispondere 60 giorni una risposta quasi scontata da Roma alla quale inevitabilmente secondo Dincà ogni Veneto dovrà ribattere con un sì convinto all'autonomia regionale se ci arriva con tutti i voti del Veneto va bene 5 milioni di voti che non sono 5 per l'amore di Dio saranno 3, 4 per quelli che poi hanno detto poter votare beh insomma sapete che c'è c'è una forza dietro anche c'è la forza di tutti noi messi insieme e adesso una storia che ci arriva da una nostra telespettatrice che ci ha chiamato e che ha voluto raccontare la vicenda di un uovo di Pasqua con una sorpresa diciamo quanto meno particolare per lo sdegno lo stupore e l'indignazione si è sentita male al punto che è dovuta ricorrere alle cure dei farmaci Giannina volontaria di Treviso in credula continua a osservare l'oggetto che da sorpresa di Pasqua si è tramutata per lei in un incubo ad occhi aperti dopo aver aperto questo sono dovute ricorrere a un farmaco tranquillizzante glielo dico francamente la verità sono stata male una personalità caratterizzata da un animo sensibile questo della pensionata trevigiana che in questi tempi di guerra e terrorismo ha reputato ingannevole e pericoloso il messaggio legato a questo spruzzino a forma di granata oltretutto dice inserito come sorpresa Pasquale per cui l'ipotesi di avere persone cattive per vuol dire che compiono attentati con qualsiasi mezzo e trovarsi in casa una cosa di questo genere dentro un simbolo di un nuovo Pasquale che dovrebbe essere il senso di risurrezione di pace di tranquillità questo non è un messaggio simbolo questo della bomba regalo di Pasqua all'apparenza insignificante quasi invisibile ma di fatto subdolo e insidioso guerra terrore paura ma che in fondo sia anche una forma di istigazione perché un bambino lo prende come una cosa naturale secondo me gli adulti non devono far passare queste cose come cose normali quindi adesso lei cosa chiede ma io guardi non ho la competenza ma credo che tramite la vostra emittente io credo che una segnalazione si possa fare di rimprovero se si dice di stigmatizzazione come usano i grandi nei confronti di questa ditta perché credo che anche le persone che manualmente hanno inserito la sorpresa credo una qualche domanda se la sarebbero dovuta fare una delle tante storie però adesso invece andiamo ad un uovo di Pasqua chiamiamolo più positivo è quello del Banco Solidale di Rete Veneta è arrivato l'uovo della solidarietà questa settimana al Banco di Rete Veneta un uovo gigante di cioccolata per la felicità soprattutto dei più piccoli adesso rompiamo l'uovo e questa cioccolata verrà messa nei sacchettini che verrà data alle mamme dei bambini che sono a scuola o all'asilo e come in ogni grande famiglia anche al Banco Solidale si rompe l'uovo come gesto beneaugurante per la nuova stagione che va ad iniziare il nostro galliano con la forza brutta che ha lo romperà e l'ha già rompito cioccolato subito distribuito nelle oltre mille borse preparate anche questa settimana dentro generi alimentari ma anche prodotti per la casa e l'igiene personale e ancora vestiti scarpe coperte lenzuola e oggetti per la cucina tutti doni della solidarietà dei telespettatori di Rete Veneta per chi è in difficoltà e c'è chi arriva al Banco accompagnato dai servizi sociali del Comune ormai è da un buon periodo che veniamo penso vedo sempre che la persona che accompagno è felice di quello che trova molto utile pratico sia le cose da vestire che le cose da mangiare sono di qualità quindi siamo contenti di questo settimana dell'uovo gigante quindi fatto di dolce cioccolata latte per tutti nessuno escluso questa cioccolata Nicoletta la offre tutti i nostri denigratori ne abbiamo qualcuno anche noi così diventeranno più dolci e più buoni e capiranno cosa vuol dire volontariato serio onesto e leale senza soldi questo è il nostro volontariato e se qualcuno ha ancora qualche dubbio venga al Banco Solidale a visitarsi comunque io offro la cioccolata grazie della cioccolata Mirella adesso invece voi sapete oggi è la giornata che ricorda l'autismo ma non sapete che sei famiglie su dieci nella marca hanno vergogna di quello che capita a un loro figlio perché oggi voi non avete festeggiato la giornata per l'autismo perché noi facciamo sensibilizzazione tutto l'anno da settembre fino a maggio anche quest'anno in 14 incontri con cadenza quindicinale noi parliamo di informazione divulgazione facciamo formazione quindi la nostra attività è permanente conoscere condividere formare sono le parole più utilizzate per l'autismo una disabilità ancora nascosta da tante famiglie nella marca noi stimiamo che circa il 60% di questi soggetti vivano nascosti in casa a causa di uno stigma di uno stereotipo quindi il motivo c'è che è quello che vede collegato l'autismo come causa alla scarsa affettività della famiglia soprattutto della madre questo concetto di mamma frigorifero che per tanti anni ha costituito e ancora purtroppo una sciagura una delle tante sciagure che gravitano attorno all'autismo ecco che allora quando ci sono i primi sintomi anziché riferirsi al psicologo al centro di riferimento per avere una diagnosi e avere un aiuto tanti genitori si chiedono perché abbiamo sbagliato siamo noi la colpa siamo noi il problema e quindi cercano di allontanare di più il più possibile questo fenomeno allontanare il più possibile questo fenomeno significa aggravarlo e quindi creare danno ai bambini condividere quindi e non isolarsi il tema dell'incontro organizzato oggi a Monastier dove Treviso si è confrontata con la Scozia due consulenti di Scottish Autism la società d'autismo scozzese che è punto di riferimento anche per l'Italia tant'è che le linee guida italiane sono state scritte riferendosi proprio alla società scozzese ma il vero tema per queste famiglie è il futuro dei bambini di oggi affetti da questa disabilità case famiglia e centri di accoglienza al momento sono solo legate al privato che come nel caso della struttura orto di San Francesco di Casale sul Sile non riescono a sostenersi economicamente perché le istituzioni sono refrattarie non vogliono riconoscere la bontà di certi progetti che per esempio dal 2009 non hanno mai registrato alcun minimo incidente pur avendo ragazzi autistici con associato grave ritardo mentale ecco che allora l'istituzione non è sensibile ancora alle famiglie non le vuole coinvolgere cose che invece avviene nei paesi anglosassoni e cose che invece noi dobbiamo imparare a fare 19.48 minuti primi siamo alla programmazione questa sera alle 21.05 non perdete l'appuntamento con la grande storia della grande guerra dal 4 novembre 1918 è l'ora della vittoria i due appuntamenti di questa sera che poi saranno in replica domani alle 15 mentre domani alle 9.10 ci sarà il Santo Rosario a seguire la parola del Signore con Don Adelino Bortoluzzi poi alle 10 ci sarà la diretta della Santa Messa dal santuario di Castello di Godego a Treviso alle 13.10 invece idea formazione a seguire la tv dei ragazzi alle 15 appunto la grande guerra la replica 17.45 il nostro Angelo Squizzato e Agricoltura Veneta e alle 20 videomotori vi ricordo anche lunedì mattina 8.10 Sveglia Veneti con il vice sindaco Roberto Grigoletto vice sindaco di Treviso e a me non resta a questo punto che augurare a tutti voi una serena serata e un'ottima domenica arrivederci e grazie a tutti